La questione Alessandro Sallusti, quella foto, quanto è compromettente per le sardine? Riusciranno a recuperare? No, io non lo trovo per nulla compromettente. Certo, è compromettente rispetto alla loro ipocrisia di voler dividere il mondo in due. Chi sta da una parte è brava e chi sta dall'altra non merita nemmeno una foto opportunity. Se questa regola valesse, credo che negli anni passati nessun movimento, nessun ragazzo, nessun futuro umano avrebbe dovuto farsi fotografare né con Berlusconi ovviamente, ma neanche con De Benedetti, neanche con la maggior parte dei nostri grandi imprenditori, che pur ne avranno combinate anche delle loro, ma comunque hanno fatto grande questo paese. E quindi, come dire, casomai io trovo inopportuno che si facciano fotografare con i politici di sinistra se rivendicano la loro indipendenza. Essere indipendenti significa anche andare a conoscere una realtà come quella dei Benetton, che non è fatta solo di autostrade, ma che sono stati e sono tra i più grandi imprenditori di questo paese. Poi, se hanno sbagliato sull'autostrade, andranno fin anche in galera, sono affari loro. Ma tanti imprenditori sono stati o hanno rischiato di andare in galera, eppure nessuno si è mai vergognati di chiamarli in prima fila alle feste del PD.